Musica Ultima partita di questa serata di Cesate Christmas Cup Calcio 5 di fronte a Calcio Rock'n'Roll 6 punti All Star invece che è ancora a 0 punti abbiamo Calcio Rock'n'Roll abbiamo il Bomber Hans, Vigil, ciao Ciao, buonasera a tutti Qua invece abbiamo Old Star Daniele Salerno il portiere capitano, ciao Ciao a tutti Allora cominciamo con voi insomma 6 punti già qualificati insomma avete iniziato il torneo alla grande Sì, beh abbiamo espresso il calcio come ci piace a noi speriamo di andare avanti bene Invece come mai siete ancora fermi a 4-0 Ma abbiamo perso la prima male e la seconda purtroppo non l'abbiamo disputata quindi ci troviamo ancora a 0 ma vediamo di farci valere anche questa partita Bene, allora visto che fa molto freddo che avete voglia di riscaldare datevi la mano signor Di Fair Play buona partita a tutti Ok Ok Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. ma no 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 no. guarda La casa Ora Non mi mando su, guarda? Stai, andiamo su, ragazzi Basca, la stanchi Allora, dico la pia Vado, vado Vado, vado Torna, torna! Brava! Vede e più di alto! Noi, brava, brava! Grazie, brava, brava! Grazie, brava, bravo! Grazie, bravo! Vieni, 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 guarda! Vieni, vieni, guarda! Vieni, guarda! Vieni, guarda! Torna! Vieni, guarda! Sì, guarda! Oh! Buon ora! Due! Sì, prima! Un passo fuori! Sì! Arrivo! Dai, dai! Buon arrivo! Bravo, cazzo! Bravo! Oh, sotto dietro, vai! Bravo! Dai, va! Diva, diva ancora! Andolo! Alè! Alè! Dai, ragazzi! Sì, dai, dai! Due contro due, due contro due! Sì, danza! Ehi, dai! Dai, vai, vai! Buongiorno! Oh, giusto! Cazzo, cazzo! Guarda! Con per questo, eh! Tempo! E' un po' E' un figlio! Raga! E' un figlio! 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 Sì! 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 Tira, tira Tira, tira Tira Bravo Grini Eba Passo, uomo Fini, fini, fini Tira Dai, Colochi, c'hiú da Yuri Dai, dai Eh? Ahhhhh Passo, Christina Tira P вам C'è l'ha Prendi a fare l'ha ah no e io tu come puoi eh ah viva che è la scuola di un disco ah corre ah c'ha dai corri di scuola no 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 2 3 3 4 3 bravo via da lì Cristiano via da lì Cristiano erano vabbè secondo dietro subito dietro bella giudici 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 vai vabbè 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 giudici giudici vabbè via vabbè vabbè dai dai vabbè mioo avanti via siamo con Yui Bon Giovanni calcio rock'n'roll addirittura ha segnato 9 gol la partita contro il star quindi porta a casa 3 palloni invece di 1 visto che ha fatto 9 gol bene bene ottima prestazione mia della squadra siamo contenti 3 partite 3 vittorie col vento in pompa adesso a questo punto dovete vincere il torneo magari ti toccherai l'ho fatto uno ci prova uno si gioca per vincere se va bene avete anche una squadra decisamente molto forte voglio andarci con i piedi di piomo non si sa mai adesso comincia le partite di eliminazione diretta però insomma bisogna fare anche attenzione fa sul serio adesso si fa sul serio se no vi faccio anche più caldo perché ora fa freddo forte eh sì la prima volta porteremo i termosifoni da casa ce l'avete qualche stufetta alla case elettrica stufette le portiamo tutta la vita per i nostri tifosi e per i giocatori in panchina bene grazie e complimenti buon anno e buon Natale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti